Quarto appuntamento settimanale di Love Easy, Eater continua la settimana di programmazione di Love Easy, Eater, la sopopera turca dal titolo originale Senkal Kapimi Iniziata lo scorso 31 maggio, viene trasmessa in prima visione in Italia su Canale 5 Nella puntata odierna partirà alle 16.55 circa subito dopo il daytime del grande fratello VIP 6 e avrà una durata di circa mezz'ora Cosa accadrà nella serie tv giovedì 11 novembre 2021? Per scoprirlo basta seguirla sulla rete Ammiraglia oppure su Mediaset Play Infinity in diretta alle 16 55 circa dal nei giorni di programmazione Love Easy, Eater, Selina aspetta un bambino Le anticipazioni della quarta puntata settimanale di Love Easy, Eater svelano che l'architetto Serkan vorrà approfittare della festa organizzata per l'Art Life per fare la proposta di matrimonio ad Eda Proprio a questo party la paesaggista ha invitato anche Kemal che ha in mente un piano La sua amica Melo verrà a conoscenza che Selina è incinta. Non riuscirà a mantenere il segreto con la dolce fioraia La donna incinta di Serkan, gli spoiler di Love Easy, Eater in onda giovedì 11 novembre 2021, svelano anche che Melo glielo dirà prima della festa all'Art Life Eda non rimarrà con le mani in mano, infatti si reccherà da Selina per accertarsi che la scioccante notizia sia vera Selina ammetterà di essere in dolce attesa e che il padre è Serkan Tuttavia, dirà alla paesaggista di volersene andare senza dirgli nulla sulla gravidanza Cos'altro accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la sopopera turca di Canale 5 Cos'altro accadrà? Goh! 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 prawda?! Grazie a tutti.